Salve amici siamo i giocatori per caso, oggi facciamo la sfida colpisci gli animali selvatici con un'onda d'urto usando un arco o una granata d'onda d'urto, mamma mia che scioglie la lingua, ma vedrete che è veramente semplice, ma intanto iscrivetevi al nostro canale. La sfida in sé è semplice, innanzitutto dobbiamo trovare delle granate ad onde d'urto, questa è solo la parte difficile, perché non sempre si trovano, potete andare un po' dove volete, non ha importanza. Io ad esempio ho trovato una torre lungo la strada, mi sono fermato lì e l'ho cercata, ma non ho avuto successo, così mi sono diretto da un'altra parte. Visto che sono vicino sabbia e faccio che andare lì, tanto è qui a un passo. Ora, cercando in giro ho trovato una bella cesta che conteneva quello che mi serviva, nel mio caso avevo anche l'arco, allora conviene direttamente fare l'arco, perché ho più munizioni, in questo caso ne avevo 11 mi sembra. Se avessi usato le granate ne avevo soltanto due a disposizione, per cui pochi tentativi. La cosa successiva da fare è cercare un'automobile, oppure potete anche andare a piedi, dipende dove siete situati in quel momento. Dovete andare un po' in giro, cercare in mezzo al bosco qualche animale selvatico, che tutti sono considerati selvatici, anche i polli per assurdo. Ora, una volta che li avete trovati, inizia il divertimento vero e proprio. Qui non dovete sparare in testa loro, dovete colpire il pavimento, in modo da lanciarli via con l'esplosione, vedete? Adesso lo rifaccio. Se li colpite direttamente, se li ammazzate al primo colpo, non gli fate niente. Se invece riuscite a non ammazzarlo e solo ferirlo, in quel caso verrebbe proiettato a lontano, e la sfida è comunque completata. Poi a un certo punto, quando erano troppo vicini, non riuscivo più a controllare la situazione, e ho pensato che era meglio abbatterli. Comunque avete visto come si fa, la sfida è veramente semplice, serve solo un po' di tempo per cercare le granate. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su, che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche. Grazie a tutti.